Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con la serie delle 7 signori miei Tanti card è passato dall'Inter al Borussia Dortmund per 82 milioni di euro, perfetto E Rodrigo dal Real al Chelsea per 89 milioni, perfetto va bene, soldi che noi non avremo mai da poter spendere però ok Detto che sono le prime particole video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per il supporto che sta dando a questa serie Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941, link in descrizione Se volete supportare il canale con delle piccole donazioni potete farlo tramite il link che trovate in descrizione, l'opzione Paypal Detto che signori partiamo con il video Ok raga allora, noi già abbiamo in previsione il 31 luglio l'esordio in campionato e la cosa mi mette un po' di ansia Allora noi esordiamo in championship signori miei e offerta per il trasferimento per Taylor No, mi secca fare, se salta quello lo andiamo a trattare con loro Mi secca andare a trattare raga, sono emozionato per l'esordio in championship signori miei Offerta per il trasferimento per Teco Dudu Teco Dudu è il centrocampista, no? Se non sbaglio, Teco Dudu è il centrocampista di 56 Sì, allora Teco vai e torna più forte Che squadra è? Accademia? Clinceni? Ma andò stai andando a giocare amico mio? Va bene, accettato, Teco Dudu vai e torna più forte di prima Ragazzoli Si avvicina sempre di più l'esordio in championship Allora il nostro obiettivo raga e non penso che riusciremo a ottenere la promozione subito In questa prima stagione Però dobbiamo cercare di combattere Rifiutato il prestito per Teco Dudu Perché? A Teco non rifiutare Harwood vuole giocare, ci penserò Raid vuole giocare, ci penserò Johnson è triste E la tua miglia, tornerai più forte Tornerai più forte A Johnson, mamma mia Raga, se a fine mercato Johnson non ha portato una squadra Io giuro che gli rescinde il contratto È impressionante Allora Andiamo a schierare i nostri migliori Allora, Morris e Claudio, signori miei Che se non sbaglio però li devo invertire Sì, di qua e di qua Sulla destra va a giocare Casa Day A centrocampo mettiamo Amponsa E il nostro carissimo Raid, signori miei Sulla sinistra Nicholson In difesa Mitchell Qua bisogna mettere Lima e Salazar Anzi no, Harwood perché si era lamentato Drollo titolare per forza E in porta McKinley Sistemiamo però la panchina Allora, Eiyadama va bene Watanabe Hamilton no Hamilton no Hamilton no Dobbiamo mettere Salazar No, va sbagliato Dobbiamo mettere Salazar Ok Poi abbiamo Mariani ce lo possiamo portare Ok A centrocampo Esposito Chi rimane fuori Allora Se non sbaglio abbiamo Teko Dudu Che non so dove sia finito Dove sta il nostro Teko? Ah, Teko là sopra Teko Dudu Lo mettiamo qui Al posto di Johnson Johnson lo facciamo fuori Per Per Naga Così abbiamo il doppio Il doppio attaccante E fuori chi rimarrebbe Cunningham Dudu Kuruma Taylor Hamilton E Alvarez Va bene così raga Preferisco Ad e cc Però non esterno No, va bene così Giochiamo così raga Giochiamo così Portiamoci loro Mariani e Esposito Naga e Dudu Perfetto Ok Dovremmo avere i sostituti giusti Per poter recuperare la partita Forse Nel nostro esordio In championship Signori miei Allora L'obiettivo è magari Metà classifica L'obiettivo è magari Metà classifica Derby Morecambe 31 luglio 2022 Che c'è fama All'esordio in championship Vinciamo 3 a 0 Raga Mamma mia Che esordio col botto 3 a 0 Aspettate che mi sto sentendo male Mi sto sentendo male 3 a 0 all'esordio Contro il derby country Spettacolo In championship Gol di Amponsa Raid e Morris Cartellina gialla per Mitchell E si è fatto male Harwood Va bene Però è rimasto in campo Quindi non dovrebbe essere Niente di grave 3 a 0 fuori casa Mamma mia Che cosa paurosa Va bene Continuiamo ad allenare loro Raga E Adama Sala 66 Bravo E Adama Bravo E Adama Dai è così Dimostra Dimostra che il campione Che sei Giovane Giovane promettente Papa Maullo Ha messo la mano Su di te Sono frustato Ma che problemi Mi ha reso conto Allora Aggiornamento dell'osservatore Eccolo Dall'Arabia Saudita Allora Al Dayeb 69 93 Troppa forbice Troppa forbice C'è raga Rifiutiamolo Al Jaber 71 94 Lui potrebbe essere interessante Al Sahan Sahan 61 81 No Al Dossadi 58 80 No Amen 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 Sarebbe tanta roba Raga Avere Amen In campo Sarebbe tanta roba Però No Amen E Papa Maullo Farebbe una coppia bellissima E poi Al Mahualad 68 94 Troppo forbice Non può essere Teniamoci solamente questo Al Jaber 71 94 Anche se non mi Ispira niente di particolare Però ce lo teniamo Poi abbiamo Bell Che da dove viene Bell dal Messico Jaim Jara 57 77 No Riccardo Cordoba 74 94 Promette bene Continua ad osservarlo Cristian Carvajal 71 94 Interessante Pablo Pablo Arnaiz 63 85 No E poi abbiamo Raul Cardenas 57 77 No Teniamo in osservazione Questi due Raga Che sembrano buoni Sembrano buoni Teniamo loro Teniamo loro E poi abbiamo Morris Morris che arriva Dalla Spagna Con Belli Questo Questo andrebbe preso Solo per la capigliatura Raga Andres Ferreras Che però Fa i schifos No 65 85 No Damian 70 94 17 anni 210 Lo teniamo 17 anni Francisco Rotella No Rotola via Lucas Aguir 60 82 No E Pablo Ramos Questa è la brutta copia Di Sergio Ramos E no Lo rifiutiamo Ok Seguiamo solamente lui Poi abbiamo Offerta del trasferimento Offerta per Cunningham Prestito per un anno Ok Cunningham Te ne vai anche te In prestito Non ho capito A che squadra Sta andando Allo Sepsie Vai zio Vai e torna Più forte di prima Più forte di prima E poi giocatore Infortunato Tre giorni Per Harwood Ok Ah no Aspettate C'era C'era Harwood Che voleva Parlare Che dici Harwood Mio Ti ho fatto Giocare Sono Stato Volevo Solo Continuare La mia Striscia Posidare In Cazzo Comunque Mi ha Mandato In Campo Mista Ah Meno Male Conserva La tua Voglia Di giocare Meno Male Pensavo Si sta Lamentando Raid Invece Ah no Lui è Contento Raid Magnifica Vittoria Grande Raid Ottimo Lavoro Ottimo Lavoro Amico Mio Ottimo Lavoro Ok La stagione Procede Raga Speriamo Che arrivino Qualche Alta Offerta Interessante Dobbiamo Anche Andare A controllare I giovani Dobbiamo Anche Andare A controllare I giovani Proste Partita Contro Il Millwall Grande Grande Squadra Millwall Se qualcuno Conosce Falconero Che ci ha Fatta Una Bellissima Stagione Praticamente Serie Taylor Venduto E' Stato Un piacere Taylor Grazie Salute La tua Nuova Squadra Teco Dudu A teco Il Guanzo G Quella La squadra Quella Famosa Il Gunzu C Come Cazzaro La si Dice Accettiamo Vai Teco Ti Prego No No Raga Ma Porca Di Una Paletta Ambriaca Sono Un pirla Sono Sono Un pirla Ho Accettato Il prestito Per te Ma Era Teco L' Attaccante Ma Porca Miseria Han Fatto Pensavo Fosse teco Il Centrocampista No 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 Abbiamo mandato Teco In prestito Non posso Rifiutarlo Non posso Più Tornare Indietro Ma Porca Mi Pensavo Fosse teco Il Centrocampista Rifiutato Il prestito Per Gun Per Cunningham A Cunningham Mamma Mia Mi Stanno A rimanere Tutti Sulla Pancia Raga Andiamo Giocando In Millwall Andiamo A giocare Contro In Millwall Allora La prossima partita Abbiamo subito Una partita Ravvicinata Che è Contro Il Portsmouth Non so Se riusciremo A recuperare I nostri Titolari Raga Ma L'obiettivo L'obiettivo È raggiungere La Premier Quindi Andiamoci a giocare La partita In casa Contro Il Millwall Loro Vengono Dalla Sconfitta Contro Il Charlton Athletic 6 Agosto 2022 Che Ce Famo 2 a 2 Va Bene Va Bene Va Bene 2 a 2 Va Bene 2 a 2 Va Bene Allora Hanno segnato Raid E Nicholson Ammonito Harwood E poi Sono Entrati Mariani Esposito Per Casa Day E Raid Va Bene Va Bene Raga Un 2 a 2 Ci sta Ci sta Abbiamo fatto 4 punti In 2 giornate Non è Per niente Male 4 punti In 2 giornate Non è Per niente Male Non ci posso Credere Non ci posso Credere Raga Abbiamo Mandato In presso Il nostro Attaccante Siamo Dei Stupidi Siamo Stupidi Abbiamo 3 Giovani Mamma mia Quanto vado A parlare Con Allora Johnson Tornerei Più Forte Allora Mettiamolo Sul mercato Johnson Raga Perché Non arriva Una squadra Che lo voglia In prestito Allora Lo mettiamo Sul mercato Quando succedono Queste cose C'è sempre La dirigenza Che inizia A vendertelo Subito Il giocatore Ora Non se lo viene A prendere Nessuno Allora Johnson Rimuove Dei prestiti Ok Johnson Non lo posso Rimuovere Dei prestiti Cioè Uno lo vuole Vendere Non lo posso Vendere Va bene Ok Johnson Mio Un mito Sei Johnson Sei proprio Un mito Arriviamo Alla partita Col Portsmouth Raga Ci fermiamo Qui Offerta Per prestito Di Cunningham Cunningham Mio Ti prego Accetta Zio Accetta Questa È una squadra Migliore Rispetto a Quella Di prima Cunningham Accetta Allora Ragazzoli Noi Per questo Video Ci fermiamo Qui Arriviamo Per la partita Con Naga Non si muove Naga Non si muove Porca miseria Non ci posso pensare Abbiamo sbagliato A mandare In prestito Teco Prossimo video Dovremmo cercare Di vedere Tra i giovani Lo posso vedere Adesso Se abbiamo Un attaccante Da poter promuovere Esterno 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 TS Esterno CC S Non abbiamo Un giovane Attaccante Da poterci portare In prima squadra Bene Bene E tra invece Tra i Tra i Tra gli svincolati Abbiamo Piccolo No Non assente Andare a prendere Piccolo Che sarebbe Un acquisto Eccessivo Non abbiamo Attaccanti Interessanti Sul mercato Da andare A vedere Va bene Ragazzi Allora Detto questo Io per questo video Mi fermo qui Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggerimenti Noi ci vediamo Sempre qui Sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao